Agricoltura in ginocchio nella Piana e a Rosarno e i tanti agrumicoltori non riescono più a vendere le loro clementine. Nei giorni scorsi il problema era stato sollevato dal sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, il quale aveva chiesto per la seconda volta un incontro con il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio per avviare un tavolo insieme alle associazioni di categoria, gli operatori del settore, i sindaci e le parti sociali per risolvere il grave problema. Ora arriva l'interpellanza del deputato azzurro Francesco Cannizzaro, indirizzata al ministro. La crisi, spiega il deputato di Forza Italia, dipende principalmente dalla concorrenza azreale di alcuni paesi dell'Africa settentrionale e della Spagna che immette sul mercato clementine proveniente dai paesi del Maghreb a costi stracciati e di bassa qualità. Gli agrumi coltivati in Africa spuntano prezzi di mercato notevolmente più bassi rispetto a quelli calabresi e in generale a quelli italiani, anche per via dell'utilizzo di pesticidi illegali in tutta l'Unione Europea e grazie al costo di manodopera assolutamente inferiore. Alla luce di questa situazione che sta portando sull'astrico migliaia di famiglie dopo il grido d'allarme lanciato dai sindaci del territorio, sostiene il deputato azzurro, chiediamo che vengano assunte iniziative a difesa del comparto, in questione incrementando le risorse del fondo agrumicolo previsto nella legge di stabilità 2018, chiediamo inoltre, prosegue il parlamentare, che vengano attivate iniziative urgenti per incrementare controlli e indagini capillari al fine di evitare frodi e false denominazioni di provenienza e per testare l'aderenza degli agrumi in ingresso sul territorio nazionale ai criteri di qualità richiesti dall'Unione Europea. Grazie. Grazie. Grazie.